Palla verso Orlandini, Baresi, bravo Orlandini, poi Bonaccina, Serena. Pasciullo, fioccano le ammunizioni, grande azione personale di Berti che sta recuperando come dicevamo la piena condizione e quindi sciorina di nuovo i suoi numeri preferiti che sono quelli dell'accelerazione a tutto campo grazie a una falcata e una facilità di corsa notevole. Ammunita dunque anche Pasciullo e calcio di punizione per l'Inter. Tutto questo al diciottesimo della ripresa con Nerazzurri, Nerazzurri dell'Inter, in vantaggio per 1-0, stasera i Nerazzurri sono gli Atalantini per la verità. C'è Baresi sulla palla e c'è Matteus in posizione di tiro. Violentissimo a destra di Matteus, è un grande gol. Golla di Matteus, un'autentica sterla. E vedete che i tifosi dell'Inter sono in festa, diciottesimo raddoppio di Matteus, un gol veramente da intorniciare. E vedete il pallone d'oro, chiaramente soddisfatto. Il tocco è di Baresi, il collo pieno, fiondato, imprendibile per Ferran, nel 7-2-0 per l'Inter. E rivediamo ancora. Grandissimo gol di Matteus. Situazione che si è sbloccata nel giro di 3 minuti. Subito dopo il quarto d'ora della ripresa, ora l'Inter conduce per 2-0.